Quasi 700 chilometri a piedi per un percorso dal significato molto profondo legato alla storia personale di Vincenzo Placida, operaio di 46 anni che il 25 aprile ha deciso di partire dalla sua Vigonovo, in provincia di Venezia, per portare alla luce la malattia genetica rara di cui affetta sua figlia Valentina di 14 anni. Il suo viaggio, intrapreso quasi interamente, correndo, spingendo un passeggino che simboleggia sia la vicinanza della figlia, ma anche un appoggio prezioso per i suoi rifornimenti, attraversa 5 regioni e si concluderà a Roma il 14 di maggio. Vincenzo ha però voluto fare tappa a Pesaro, considerata fondamentale perché è proprio qui che 25 anni fa è nata l'Associazione Nazionale Cornelia de Lang, nome della sindrome che dalla nascita accompagna la figlia. Era una tappa che aspettavo con ansia dal primo giorno, primo perché ovviamente appunto l'Associazione di qua, quindi qua ci sono le nostre famiglie storiche, quelle che involontariamente a cui siamo più affezionati sia io sia mia moglie Romina, e poi anche perché è il primo giorno di riposo, quindi lo aspettavo con voglia anche per quello. Arriverò a Roma il 14 maggio, che è la giornata mondiale della sindrome di Cornelia de Lang, che generalmente cade sempre il secondo sabato di maggio. Quindi diciamo che quando è stata pensata questa iniziativa qua abbiamo ragionato al contrario, quindi arriviamo quel giorno e di conseguenza partiremo questo giorno qua. E appunto non a caso è scelto apposta, non a caso è scelto per avere anche più probabilità di ricevere l'udienza privata del Papa, perché magari in concomitanza di un evento anche così importante sarebbe potuto essere uno stimolo in più anche per lui, che sicuramente di impegni ne ha per magari ricevere i nostri ragazzi. Il giorno prima, il 13, venerdì 13, alle 10 e mezza avrò l'incontro al conico Presidente Malagò, nel pomeriggio anche in Comune a Roma, e appunto il 14 faremo l'incontro all'udienza privata dal Papa. E infine l'ultima tappa di questo lungo viaggio si concluderà per Vincenzo con una compagna speciale. La figlia Valentina infatti seguirà il papà dalla ripartenza dal Vaticano fino all'arrivo in Piazza del Popolo a Roma. Una missione per cercare di sensibilizzare sulla sindrome Cornelia de Lang, una malattia genetica rara che colpisce un caso ogni 45.000 nati, comportando alterazioni della faccia, delle mani e dei piedi, ma anche ritardo della crescita e ritardo mentale. La ricerca negli ultimi anni ha fatto dei passi in avanti, ma la strada da percorrere è ancora lunga. La ricerca è stato un importante passo in avanti negli ultimi anni. Sapevamo che c'era una ricerca di eventuali farmaci, quindi le ricerche iniziali, la fase iniziale che è basata sullo studio sugli animali. Recentemente, pochi mesi fa, abbiamo avuto la notizia che comunque la ricerca, questa prima fase, ha avuto dei buoni risultati, dei risultati che permettono il passaggio alla fase successiva, quindi sperimentazione vera e propria sui bambini e sui ragazzi. Questo ha fatto sì che collegassimo l'evento a questo progetto, quindi a una raccolta fondi per sostenere la ricerca, perché la sperimentazione, nello specifico, ha dei costi molto elevati.